Niki Giussino, il disturbatore televisivo per antonomasia, www.nikigiusino.it appena tornato dall'Euron Marlene ho speso lì 5,70 euro mentre la Declado non ho speso 30 euro però poi vi spiegherò il perché allora che cosa è questo qui? vediamo, ha delle rotelle diciamo una sorta di macchinina, no? indizio ci va la macchinetta sopra allora io che cosa ho creato? con soli 5 euro ho creato un dolly, che cos'è un dolly? in termini cinematografici dolly, in altre parole diciamo è una sorta di carrello, cioè viene fatta la carrellata ora vi vado a dimostrare proprio Niki Giussino con 5 euro che cosa ha fatto allora prendiamo una videocamera la inseriamo sul dolly eccola qui fate caso al casino ora vi vado a far vedere le diverse tipologie di carrellate accendiamo la videocamera ecco qui guardate è un dolly da tavolo diciamo così e la carrellata consiste in questa maniera partiamo da un soggetto ravvicinato cioè vicino e andiamo a aspettiamo questo telefono e andiamo a allontanare piano piano l'effetto qual'è? l'effetto è questo la carrellata però se uno lo fa con la mano viene un po' tutta mossa mentre con il dolly vediamo poi se giriamo la telecamera per così insomma straordinario mi complimento su me stesso nikigiusino.it ah un'altra cosa che ho speso da teglano sembra una normale luce ma in realtà è molto potente per la notte è molto conveniente nikigiusino.it